La Sabri Epica, il libro della felicità su Amazon e in tutte le librerie Wow 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 e buongiorno mi amate pustole, buongiorno come state? Sono super emozionata ragazzi, sono super emozionata perché da mesi chiedo come posso fare per andare nei server super ricchi E una pustola grande, Viola, non che sia Viola che si chiama Viola Mi ha mandato qualche giorno fa un link con tanti server diversi Allora ho detto vabbè proviamoci, ho entrato in questo gruppo, ho provato a premere un server Adesso è più o meno un'oretta che stava cercando di connettersi e vedo che si è connesso Allora potete vedere la chat, scomparerà un attimo la mia videocamera E parlano trade neo zombie buffalo, cose strane solo per mega Quindi ora, ragazzi sono emozionata, sono emozionata Andiamo a vedere che cosa ha, i pet che ci sono Ah, eh, giustamente perché so che nei server super ricchi Eh, già è passato, vabbè abbiamo già capito Li seguo Ah ho capito, forse vanno nella caverna Io ho visto un video che facevano i trade qui dentro Non ci credo, sono emozionata Oddio, quelli super ricchi fanno i trade qui dentro Allora, io lascio il nome d'ora così vedono Ok Oh mio Dio Oh mio Dio Ho trovato un server super ricco Wow Oddio, giraffa neo, shadow dragon, neon Ragazzi, due frost dragon, tra l'altro uno neon, civette, civetta neo, bad dragon Questo è il server dei miei desideri, dei sogni Queen bee mega, kanguro mega Allora esistono questi server Zombie buffalo Oh mio Dio ragazzi, che emozione Che emozione Allora, prima di tutto ragazzi Wow Andiamo a prendere il nostro server, il nostro sito Dove vediamo i valori delle cose Raga, io qui voglio fare dei trade allucinanti Questo vuole subito scambiare il mio pet ma non te lo darò mai Quindi sapete che cosa faccio io Inizio con, eh no, non ho ancora fatto i bei trade quindi mi rimane il safari Devo far uscire Gogo, dai Gogo che sono emozionata Esci Fuh, qua mi arriveranno dei bellissimi trade Spero Allora, prendiamo in mano il mio uovo E scriviamo Non riesco più a, ma perché? Sono buggata Trading safari egg Can I ask? Cosa vuole askare? Cosa vuole chiedere? Forza, fatemi dei miei pre... È la prima volta che vado in questo... Ma no, ma questo qua mi sembra uno povero però Beh, oddio, non molto povero Mi sta offrendo due corvi Vabbè, è un po' fuffa Il corvo sta al 9 Io sto al 4 Direi di... No, grazie Oh my god, this is my first Ah, è la prima volta che mi vedo Giustamente perché io ho il nome d'oro Quindi loro capiscono insieme ai youtuber Dicono la prima volta che mi vedono qui Quindi mettiamogli un bel coricino Dai, dai, dai Qualcuno è che voglia farmi uno scambio fighissimo Per un bel safari egg Sono disposta a fare dei bei trade Allora, quello che vorrei ottenere nei prossimi mesi È... Il... Live il unicorn mega Perché qua diventa fucsia, è fantastico I'm a youtuber Perché mi chiedono perché ho il nome d'oro E allora devo scrivere che sono una youtuber Quindi qualcuno vuole scambiare qualcosa Guarda questo buttragon mega Oh mio Dio Lo state vedendo anche voi Ma raga, perché mi si bugga qui? Ce lo vedete? Però non mi arrivano richieste di trade Lo vedete? È un bel safari E cosa c'ha in mano questo? Sembrava Squirtle Ah, un frost piccolo Oh raga, ma quanta roba bella Questa c'ha il dodo mega No, comunque c'è qualche... Qualche fan Perché questa zia Elisiana ha scritto Sabri Ciao Quindi vuol dire che qualcuno di voi lo sapeva E non me l'ha detto, eh Questo c'ha la giraffa mega Io non l'ho mai vista la giraffa mega Quanto può valere una giraffa mega? Eh, niente Allora vediamo che cosa abbiamo Che possiamo scambiare È vero, qua siamo buggati Raga, ma io non ho... Pensavo che con i safari di far qualcosa Ma in realtà non è che mi valga Poi chissà quanto, eh Eh, i pet migliori che ho sono... Hm L'arena artica Neon È perché qua io divento poverissima Cioè magari nei server normali sono super ricca Ma qua io divento super povera Eh, non ho niente Ho il Frost Fury Perché non trovo il Bud Dragon? Ah, ok, no, ce l'ho Che spavento Il Bud Dragon Speravo di tirarci fuori qualcosa Grazie ai miei safari egg Ma... Eh, no, mi sa che non riusciamo a fare niente qui Proprio a scambiare un tubo di niente Questo vuole Tradda Frost Tradda Frost Tradda Frost Ho capito che traddi il Frost Lo sto scrivendo da mezz'ora Trading Candy Cannon Eh, vedete qua c'è la gente con un sacco di soldi Anch'io ho il Candy Cannon Allora Anch'io ho il Candy Cannon Adesso vediamo Intanto mettiamo i safari Vediamo che cosa mi offre per un bel safarino Doh, io offrono qualcosa di bello Party 987 Un polipo neon Non mi interessa Un T-Rex neon Non mi interessa E quindi ti direi No, grazie Proviamo col Toys Qual è che posso questo? Candy Cannon Vediamo Spariamo un po' Lo vedete molto lento il gioco Perché sto caricando i video E quindi ho la banda un po' occupata Are you from YouTube? Yes Trading Candy Cannon Allora, però il Candy Cannon Vale tantissimo Perché io faccio solo giocattoli Anzi, no, non è vero Vedete, è quello che vale di più Non era forse al 2 Tutto E il Candy Cannon vale più dello Shadow Dragon Vediamo questo che cosa mi offre Ah no, questo Per un attimo mi è venuto un panico Mi è venuto un panico incredibile No, in realtà mi sta facendo No, ma raga Ma voi avete capito Che cosa c'è qua nel server? Cioè, voi avete capito Che cosa la gente Questo ha Una giraffa neon Il corvo U2, 4, 5 Levy unicorn Ma io volevo solo far sfoggiare Che avevo un Candy Cannon gigante Questo E più mi sta facendo vedere Che ha un'altra giraffa E scambiamela con qualcosa Dammi una giraffa e qualcos'altro Cioè, capito? Aiuto Mi viene male Come fai a avere tutta questa cosa? Hey Lian Un altro con la giraffa neon Signori Signori miei Cioè Io non posso darti niente Cioè, che cosa ti posso offrire? Ti posso offrire un safari Il massimo che ti posso dare È un safari Questo mi dà 4 giraffe Un Candy Cannon Un safari E non lo so Non lo so io questa cosa Sono troppo ricchi per me questi server Per capire Vediamo quanto verrebbe Giraffa neon Io gli potrei mettere Un safari Più un Toys Giocattoli Vediamo quanto vale Piccola perda In realtà sono sopra io, eh Oh, ragazzi Ragazzi Guardate un po' Se io gli do il Candy Cannon E lui mi dà un safari egg Io Cioè E il safari egg E lui mi dà una giraffa neon Io sono Sono su io Quindi Lui vorrebbe che io Addassi un po' Ma io al massimo faccio così Lo vedo in piccola perdita Non accetterà mai Ma non sei sa Io ci provo lo stesso Cioè Vi immaginate avere di botto La giraffa neon Neanche la giraffa La giraffa neon Eh Il tizio Non Non si sa Mi dice Puoi aggiungere il Bud Dragon Ma ti attacchi Ma proprio ti attacchi È arrivato lui I move Ma assolutamente no Allora Vediamo Questo mi offre il Bud Dragon Ma a me non mi interessa Io intanto gli offro Un safari Questo per il safari Mi sta offrendo Bud Dragon Cioè non lo so Se per caso vorrebbe anche Il Candy Cannon Capiamo un attimino Ah no Giustamente vuole anche Il Candy Cannon Perché io sono un 4 Lui un 2 No raga Cioè Ma io sono affascinata Da questo server Sono affascinata Io declino Perché vorrebbe anche il Candy Ma vale molto di più il mio Cioè Io non so Vi giuro non so cosa dire Ma cosa sono questi pet qua Che cos'è questo tutto Che bello Questa è un'altra giraffa mega Boh Non so che cosa dire Non so che cosa dire Guardate il Bud Dragon Mega Aiuto Hai Lo salutiamo Andiamo via Perché mi sento proprio Un essere inutile Qui di fianco Questo qua Tradda per esempio Candy Cannon For Neon Frost And Good Dads Quindi lui vuole dare Il Candy Cannon Per il Frost Neon E delle aggiunte Proviamo a fare così Andiamo nei toys Ma no Questo sta mettendo lo schifo Non ci interessa Montana Montana Scriviamo Trading Candy Cannon And Safari Egg Tutte e due insieme Intanto ci spostiamo qua E facciamo Safari Egg Candy Cannon E ho visto che mi è arrivata una richiesta Quindi mettiamo Candy Cannon And Pets Safari Egg Un Dre Frost Un Drago Mega Non ci interessa Ma No 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 Giulia Angel è quello di prima? Non mi ricordo No Non è quello di prima Allora Per ora ho messo solo una civetta Ma col cavolo Ma col cavolo Ems Bams 11 Io gli metto intanto il Safari Ma No ma raga Ma perché sta arrivando la gente che non ha niente? Dai Come funziona questa cosa? Prima c'erano offerte È questo qua che tradda Dovrei fare una bella offerta anche io Un Candy Cannon Che però Forse ne ho un altro da poter avere Quindi per quello forse lo scambio Where Q Aveva messo un Una viverna La levata Perché ha capito di aver sbagliato Devo fare io una bella Un bel trade Io vorrei una giraffa E offro un Safari Più un Allora Vediamo di quanto sono sotto Animali domestici Gir Giraffa Dovrei mettere qualcos'altro Che però io Un'arena artica Eden Vediamo se stanno arrivando cose Decenti o no Ma no raga Ma non mi stanno più arrivando cose decenti Ehi Sì Beh Non so neanche parlare Una civetta Proviamo a ottenere Sta cavolo di civetta Però la civetta Non ho niente da scambiare Perché lei vorrà sicuramente qualcosa di fortissimo E io non gliela voglio dare qualcosa di fortissimo Apriamo l'altro sito Così tengo davanti questo 4-6 Dovrei provarla a scambiare Per un Frost Dragon E un'altra cosa Ma io per la civetta Tesoro Non so Questo Però non penso che li valga Non lo so 12-6 12-6 Secondo voi potrebbe aver senso Renna artica Neon Per un A me non piace neanche la civetta Vincita Più gli posso mettere Un Christmas egg E più Un fa O quelli con i nomi Un Christmas egg E un Farm egg Che non trovo Quindi farò così Piccola perdita Però è piccola Però la mia renna artica Non ha No 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 Declino Declino perché Era un buon trade Ma la renna artica Avevo detto che era il mio pet di Natale E quindi non Non li voglio dar via Can you add a bit Dai qualche richiesta super Safari egg Safari egg vale un po' più del Frost Quindi dovresti metterci qualcos'altro No Io declino Così capisce che Devi darmi qualcos'altro Ancora con sta civetta Don't No la civetta Non la voglio dar la renna artica Perché è il mio pet di Natale Allora gli do questa Ho sbagliato Questa Christmas E farm Hai o lama Lama E Volendo posso aggiungere anche Oh Allora forse per questo trade qua Intanto il primo lo accetto Allora capiamo un secondo Io gli ho messo due renne artiche Animali domestici Una E due Piccola vittoria Sono sopra io ragazzi Sono sopra io Vado raga La civetta non l'ho mai avuta Vado 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 L'ho fatto L'ho fatto Trade Successful Ragazzi Ragazzi Ce l'ho fatta Guardate un po' Ho avuto la mia civetta Oddio Oddio Fly the ride Allora non è un animale Che mi fa impazzire Però Però ragazzi Can I offer for candy cannon Yes Vediamo che cosa mi offre per il candy cannon Vediamo raga Vediamo 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 Candy cannon Toys Uh raga il corvo neon Aiuto Giocattoli Ragazzi il corvo neon mi piace troppo Animali domestici È in grande perdita Mi ha aggiunto anche No queste cose qua non mi interessano Gli scrivo No grazie Uh il corvo neon era una bomba Il corvo neon era una bomba Ma guardate quanto ero in perdita Di tantissimo Quindi lo posso ottenere con altre cose Vabbè Mochi lavender Intanto proviamoci Però non so che cosa voglia Mochi lavender Forse la mia civetta Che ho appena scambiato Mi dà la isgole Ragazzi andiamo a casa Andiamo a casa Perché sennò io qua Rimango tutto il pomeriggio Rimango tutto il pomeriggio Uh 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 Riprendi Fammi vedere un po' E non è male Non è male questo server Non è male questo server Aiuto ragazzi Aiuto ragazzi Datemi di consigli Tipo una roba del genere Che cosa potrei ottenere Secondo voi Col candy cannon Perché dovrei riuscire a ottenerne un altro Non ne sono sicura Ma ce la potrei fare E quindi Uh che emozione Che emozione Che emozione Ci sono E è stato bellissimo Nel prossimo video A costo di metterci ancora due ore ad entrare Ma lo voglio fare Quindi aspetto i vostri commenti Vi mando un bacio grandissimo Ci vediamo domani con il prossimo video Che emozione Che emozione Che emozione Che emozione Che emozione